E ci sono anche loro due, lo spagnolo Yancu Basima, centro di 211 cm, e Jason Granger, guardia di 188 nel roster rinnovato della Reier Venezia Basket. I due atleti sono stati presentati al palazzetto Tagliercio di Mestre, un'anima e la soddisfazione per l'accoglienza ricevuta dal team e dalla città. Tutto molto bene, è iniziata molto bene questa avventura, è una società importante, mi ha accolto molto bene anche a me, alla mia famiglia, ho conosciuto i nuovi compagni, anche quelli che erano qui dalla passata stagione, per cui tutto in grande fiducia e non vediamo l'ora di iniziare a fare cose importanti per questa stagione. Sicuramente un momento importante è stato quando nel mio secondo anno in Basconia, il 2019, mi sono rotto il tendine d'Achille all'inizio della stagione, e all'inizio ho dovuto affrontare il dolore in maniera importante con le terapie, e quindi ho dovuto andare sopra il dolore per rientrare, però quell'anno poi è nato il mio primo figlio e quell'anno soprattutto si è concluso con il titolo nazionale, per cui sicuramente è stata un'annata, forse è iniziata in maniera dolorosa, ma è conclusa nel miglior modo possibile. Molto bene, anche molto meglio, magari quello che potevo aspettarmi, amo l'organizzazione, la mentalità, la cultura che c'è qui del lavoro, mi hanno accolto molto bene, credo che Venezia sia una città fantastica, per strada la gente mi ferma, ma anche a Venezia e a Mestre, per cui sicuramente un inizio molto positivo, molto di più di quello che mi aspettavo. e è meglio, è meglio, è meglio di quello che ho aspettavo.